Hai capito? Martina! Non me lo doveva fare Martina sei sopra? Sì ok ma non piangere è uno strunzo l'abbiamo capito Sta salendo tua mamma se ti vede piangere così che cosa le dici? Ma che cazzo che frega che mia mamma mi vede piangere così? Non vorrei essere nei tuoi panni Mia mamma quando mi vede piangere per un ragazzo si investe a visci Martina ma che cosa è questa cosa che ho trovato nel tuo zaino? È una sigaretta ok? È una sigaretta perché io fumo È una sigaretta? Buona Quasi quasi la fumo anch'io Ma perché stai piangendo? Piango perché quello stronzo di Federico mi ha lasciato Mi ha messo le corna Federico? Ma non si chiamava Francesco? Ah no quello era quello della settimana scorsa Tesoro scusa fammi spazio che voglio parlare con mia figlia Ah sì sì prego signora prego Allora tesoro ok ti ha lasciato ci stai male Ma che ti interessa tanto la settimana prossima l'avresti lasciato tu Fai sempre così Ti ricordi quando hai messo le corna al tuo ex? Ai tuoi ex? Anzi facciamo una cosa per farti stare meglio Oggi ce ne andiamo a fare shopping e ti compro quello che vuoi Ma che vuoi che me ne importi a me di venire a fare shopping con te? Io sto male lo capisci? Oddio santo ma stiamo nel 2023 Hai visto che Shagira ci ha scritto una canzone sul tradimento del marito? Fai una cosa scrivi anche tu una canzone Sei proprio una stupida Dai sto scherzando Allora Perché non ti fidanzi col suo miglior amico? Così gli fai uno sfregio Ma il suo miglior amico non mi piace È bruttissimo Ah è brutto E... Ho un'idea E se ci provassi io col padre? Eh? Tu con il padre? Beh Sarebbe un ottimo piano mamma Sì dai Escogitiamo qualcosa? Sì Mi hai un sogno? Mi mangiare la faccia Allora fammi pensare qualcosa E potremmo No vabbè Escogitiamo Ma come si fa a cambiare genitori?